La posizione in pedana è molto soggettiva, varia dall'aspetto fisico, varia in base al nostro modo di tirare. Un destro è ovvio che cerca di proiettare i piedi verso destra, perché avremo l'arma sulla spalla destra, quindi poi nella rotazione andando verso destra il fucile ha bisogno di una maggiore angolazione di rotazione e quindi è ovvio che per un destro il piede va girato leggermente verso destra, mentre per un sinistro automaticamente si girerà verso sinistra. Noi quando calziamo il fucile lo dobbiamo mettere a simmetrico, quindi questa simmetria la si compensa entrando in pedana a ore 14 o comunque a 45 gradi. Abbiamo bisogno di una posizione di pedana, una posizione di tiro, che ci permetta nella stabilità di poter raggiungere alternativamente un piattello sinistro, un piattello centrale. un piattello destro, ricordandoci che non sapendo di preciso quale sarà il piattello lanciato dalla macchina, la mia posizione di equilibrio deve permettermi appunto di poter fare il movimento restando comunque in equilibrio. Questa posizione si studia, si elabora piano piano con il tempo, non sempre è la stessa, perché dipende molto anche dalle condizioni nelle quali noi ci troviamo, quindi se ci sono maggiori difficoltà verso una traiettoria cerchiamo di ruotare un po' di più verso destra per avere un minimo di vantaggio rispetto a quella traiettoria, senza però compromettere il bersaglio opposto. Deve avere una posizione del corpo tale che ti permetta di girarti a sinistra e di girarti a destra per colpire sinistri o destri nella stessa identica maniera. Se questa posizione non è perfetta, il tiratore avrà dei problemi su alcune tipologie di lancio e da alcune posizioni di tiro. Devi essere impostato per cercare di rompere con facilità il piattello che per te è più difficile. Durante la competizione ci possono essere degli affaticamenti a livello dei muscoli dorsali, quindi è importante svolgere degli esercizi di tonificazione muscolare. Noi avendo, a differenza del trap e del double trap, otto posizioni di sparo completamente differenti, con angolazioni differenti l'una dall'altra, non è possibile descrivere qual è la posizione ideale. Senz'altro è una posizione comoda in pedana che ti permette di stare comodo in fase d'attesa e di avere comodità anche al momento in cui tu andrai a sparare. Quindi deve essere un compromesso di angolazione che ti permette di stare bene in tutte le fasi del gesto tecnico. Le tre discipline olimpiche di tiro a volo sono immediatamente riconoscibili, anche da chi non è un esperto di questo settore. a distinguere queste discipline, da un lato la conformazione delle postazioni di tiro, dei pedani di tiro, e dall'altro la necessità di dover abbattere due piattelli con le capi di double trap perché sono contemporaneamente in volo.